Devo sapere! Alexios, da te dipende il futuro. Vai e fonda città. Porta cultura e armonia nella barbarie. Sana con sapere il terrore che paralizza le menti umane. Così Ellade sarà in ogni dove. Così l'umano è in te. E cosa mi serve per questa impresa? Dominare il futuro con la preveggenza. Controllare il caso con la tecnica. Diffondere civiltà nel viaggio. Per fare ciò avrai bisogno della durevolezza della pietra geometrica. Ingegneria. Della fantasia dell'idea. Arte. Imporre timore dell'arma militare. Donare la protezione del debole. Famiglia. Esigere il rispetto delle regole umane. Giudici. E divine. Sacerdotio. Questa è la città, oh Elleno. La civiltà. La vera arma dell'uomo contro il fato disumano.